Dark Souls 2 è esattamente quello che serve per risvegliare la vostra anima hardcore. Seguito ufficiale del cattivissimo action RPG firmato From Software, questo nuovo capitolo si presenta come un titolo stratificato, stimolante, magnetico. Indirittura d'arrivo su PlayStation 3, Xbox 360 e fra qualche mese anche su PC, recupera ritmi e dinamiche del suo predecessore, apportando però correzioni notevoli al bilanciamento complessivo. È proprio questo raffinamento sottile e malampante delle meccaniche di gioco che rende Dark Souls 2 un titolo praticamente perfetto, anche al netto di un'anzianità tecnica che resta purtroppo il difetto più evidente del gioco. Dal punto di vista del gameplay, il titolo non si discosta dal suo predecessore. Lo schema dei controlli è quello ben rodato, ancora un po' impreciso per quel che riguarda il lock dei nemici, ma comunque facile da metabolizzare. Passano pochi minuti affinché si capisca che anche Dark Souls 2 è tutta una questione di ritmi, di esperienza, di tempistiche. Calcolare i tempi e le distanze d'attacco, conoscere le routine dei nemici è un imperativo che sfocia in uno degli action RPG più punitivi e profondi degli ultimi tempi. Ogni azione che compiamo in pratica intacca la barra del vigore, quindi è bene abituarsi ad effettuare le schivate al momento giusto, per non restare in debito proprio nell'unico istante in cui la guardia avversaria si apre, permettendoci di penetrare le carni del nemico. Qualsiasi sia lo stile di gioco che decidiate di adottare, la conoscenza precisa dei frame d'animazione degli attacchi avversari e di tutte le vostre azioni è fondamentale, altrimenti il rischio è quello di trovarsi inermi di fronte ad un colpo mortale. Si tratta, come sempre, di un gameplay brutale che non fa sconti. Nessuna leggerezza è perdonata ed ogni disattenzione è liquidata con una morte infame e inevitabile. Il gioco mette subito in chiaro questo suo approccio punitivo, accompagnando quindi ogni passo del giocatore con uno stato di ansia viscerale. Dark Souls 2, insomma, è cattivo ma mai disonesto. L'avanzamento è sempre lento e ragionato. Ogni tanto bisogna tornare ai falò per ricaricare gli incantesimi, la fiaschetta Estus o la resistenza delle armi che altrimenti rischiano di spezzarsi, ma ogni volta che si riposa tornano tutti i nemici che abbiamo fatto fuori. Raggiungere il termine di un'ambientazione o comunque il fallo successivo, dunque, è un'opera di fine ottimizzazione, che procede sia con i progressivi level up che con l'accumulo di esperienza sul campo. Alcune novità importanti al bilanciamento, come il fatto che i nemici spariscano dalle ambientazioni dopo una decina di volte che vengano uccisi, rendono però la progressione molto meno frustrante che in passato. L'aspetto forse più riuscito di Dark Souls 2 è questo suo spingersi alla ricerca di una difficoltà risoluta ma adattiva, che sappia in qualche modo avvicinarsi allo stile di ogni giocatore. E proprio allo stile di ciascuno si apre anche il sistema di crescita del personaggio, basato sulle solite statistiche, con cui livello dopo livello è possibile scolpire il proprio combattente come meglio crediamo. Arciere agilissimo o guerriero incrollabile, stregone o barbaro o ancora chierico devoto, tutto dipende dall'assegnazione delle statistiche. Non c'è una vera e propria classe, insomma la libertà è totale. Oltre alle molte differenze già elencate c'è da mettere in conto una revisione del sistema di funzionamento della fiaschetta Estus, del sistema dell'umanità e del multiplayer così spiccatamente caratteristico della saga From Software. Complessivamente Dark Souls 2 trova una sua misura sensibilmente migliore rispetto a quella del predecessore e la spiatata epopea del vostro eroe sarà sicuramente più piacevole da portare a termine. L'unico aspetto che resta davvero troppo vicino al predecessore è quello tecnico. Da un titolo pensato per la generazione di console uscente non ci si aspettavano miracoli, ma la componente tecnica di Dark Souls 2 denuncia tutta la sua anzianità. Il team ha ottimizzato notevolmente il motore e adesso i cali di framerate sono molto più rari. La gestione delle fonti di luce è stata migliorata, mentre la maggiore distruttibilità ambientale si avverte solo in pochissime zone. Ma sono la mole poligonale molto scarna e soprattutto le texture abbastanza piatte che rendono il colpo d'occhio evidentemente sottotono, insieme ad un aliasing che il team non è riuscito a far sparire. Non si pensi tuttavia che Dark Souls 2 sia un titolo brutto da vedere. La componente scenica dell'action RPG di From Software è semplicemente notevole. Il lavoro di design sulle ambientazioni è qualcosa di magico e negli scorci di Drunk Lake si scopre un lavoro creativo sinceramente smisurato. Attraverso i suoi scorci Dark Souls 2 racconta la storia di un mondo perduto, di un regno marcito. Intriso di un misticismo cupo ed ermetico, il lavoro di design si intreccia con una narrazione appena affiorante, enigmatica ma esplicita, che lascia alla community e al giocatore il compito di trarre conclusioni e sondare l'intricata mitologia di Drunk Lake. Ad oggi insomma, quello di Dark Souls 2 resta uno dei setting più riusciti e originali del fantasy moderno. Arrampicandosi sull'eredità del suo predecessore, Dark Souls 2 sublima la formula di gioco approntata da From Software per diventare uno dei migliori action RPG di sempre e chiudere in bellezza questa lunghissima generazione. Più che creativo, il lavoro sul gameplay è stato meticoloso e di sottile bilanciamento. Smussando gli spigoli di una difficoltà che era alle volte mortificante, Dark Souls 2 diventa quel grande capolavoro del genere che il suo predecessore non era, per un soffio è riuscito ad essere. E lo fa anche grazie allo stratosferico lavoro sull'ora e sul design dell'ambientazione. Il mondo bacato e ritorto di Drunk Lake è di quelli che restano, bellissimi e terribili, impressi nell'immaginario collettivo del fantasy moderno. Precisissimo, profondo, calcolato al millimetro, Dark Souls 2 rappresenta una gemma preziosa nell'eredità di una stagione videoludica ormai pronta a morire.